Quest'anno tocca a me, non so da dove cominciare. Sei fortunata! Alla fortezza da basso, dal 31 ottobre al 4 novembre, torna a Tutto Sposi e in un giorno solo potrai organizzare il tuo matrimonio. Vieni con me, così potremo seguire le sfilate e prendere un aperitivo. Tutto Sposi 2013, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 15 alle 23. Domenica 4 novembre, dalle 10.30 alle 23. Lunedì, dalle 15 alle 21. Non mancare Tutto Sposi è la fiera per sposarsi e per sognare.